Dobbiamo dire solo tre parole, quattro. Perché quattro? Rivoliamo la nostra carriola. Ah, già, quattro. Rivoliamo la nostra carriola. Carriola? Ma che carriola? La macchina che ci avete distrutto. Noi la chiamavamo così. Ci eravamo molto attenzionati. Ma voi lo sapete con chi state parlando? Sì, sì, come no? Bisogna scusarlo, soffre di allergia al sigarno. Già. È evidente che voi che sono io non lo sapete. Sì, sei quello che ci ha distrutto la macchina. E ce la devi ricomprare nuova, giusto? Giusto, capo? Scusa. Ecco, qui c'è scritto dove sta la mia officina. La rivolgiamo tale e quale com'era. Una dune baggy fresca di fabbrica. Sarebbe un gesto gentile mandarcela a casa. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno. Altrimenti? 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 Altrimenti ci arrabbiamo. Ah, ecco, ci arrabbiamo. A proposito, non una di un baggy qualunque. Deve essere rossa con cappottina gialla. Altrimenti?